Aglio, acciughe, olio e panna. Noi abbiamo imparato dalle nonne a fare la bagnacauda. Al mattino a colazione mangiavano la bagnacauda. Facevano quello che avevano da fare, quando avevano finito nella stalla mangiavano la bagnacauda. E allora si faceva, non con una panna, faceva solo aglio, olio e acciughe. Noi in campagna non sapevamo neanche cos'era il pesce di mare. Una volta l'acciughe, come il merluzzo, era un mangiare da poveri. La bagnacauda la fanno in cento maniere, non c'è uno che la faccia uguale. Per conto mio, come la facciamo noi, non è per dire, ma è l'unica. Grazie a tutti.